cari amici di visione tv benvenuti al nostro nuovo appuntamento sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è carlo freccero ciao carlo grazie per aver accettato il nostro invito sono io onorato di essere con voi vi seguo siete una realtà della rete è molto importante per cui buon lavoro e continuate così ecco grazie a te per le tue parole generose carlo tu per noi sei un punto di riferimento non solo per noi per tutti quelli che fanno formazione libera e che soprattutto amano il libero pensiero so che volevi fare una premessa prima di riuscire a fare l'intervista ecco perché ti dico in questo contesto occorre essere molto precisi e molto in qualche modo inquadrare le cose perché rischiamo di essere accusati tutti quanti di in qualche modo di fascismo ecco per cui vorrei fare questa dichiarazione mi chiamo carlo freccero sostegno referendum contro il green pass per la programmazione del green pass credo nella costituzione e voglio riportare il dibattito nell'alveo della legalità quindi sono contro la violenza punto e basta però anche manifestare un diritto anzi è un diritto costituzionale diritto che ormai ci viene negato nei fatti perché ogni manifestazione è volutamente infiltrata non vorrei che prendendo le distanze dalla violenza assecondiamo volontariamente la propaganda ripeto assecondiamo volontariamente la propaganda che accusa i manifestanti pacifici di fascismo anzi di essere figli del fascismo no la violenza ma anche no alla propaganda grazie ecco una premessa d'obbligo che sottoscriviamo in pieno considerati i tentativi sempre più palesi del potere profondo di avviare diciamo fuori tempo massimo una nuova strategia della tensione come noi che qualche po di storia la conosciamo ecco non cadremo facilmente in questi tranelli a proposito di manifestazioni preparate presentate con una piattaforma chiaramente costituzionale c'è a venerdì a trieste una protesta pacifica sensata di lavoratori portuali molto solidari fra di loro che ricordano come l'articolo 1 della costituzione dice che questa è una repubblica fondata sul lavoro e non si può discriminare la gente proprio sul lavoro cosa pensi tu della protesta dei portuali di trieste caro allora diciavano che è un evento epocale per due anni l'italia è stata in qualche modo inerte mentre il mondo si ribellava bene eravamo in qualche modo in preda come tu sai a una ipnosi che ci paralizzava tu lo sai meglio di me e l'è seguita passo passo questa ipnosi ne è fatto un po lo psicanalista ecco il green pass ha prodotto il miracolo dopo il green pass anche tu anche la vostra canale televisivo anche il vostro canale online ha imprevisamente seguito il risveglio questo è il primo punto le piazze piene un'altra cosa fondamentale che tu sai l'attenzionismo la rinascita delle lotte dei lavoratori bene e in questo contesto spicca l'appello dei portuali di trieste che non prendono neppure l'esame in qualche modo il tipo della trattativa condotta dal governo oppure dal sindacato dal sindacato governo proprio lo lasciano andare e vorrei leggere esattamente la dichiarazione in modo tale che il pubblico se non ancora letto lo sappia ne estrago un pezzo un brano dice mentre il governo appunto avanti come sapete la consueto strategia di divide ed impera i portuali scrivono siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo una sorta di accomodamento riguardante in qualche modo la nostra situazione noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che noi scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l'obbligo del green pass per lavorare non solo ma per i lavoratori del porto ma anche per tutte le categorie dei lavoratori io credo che di fronte a queste parole non sappiamo non possiamo che inchinarci per la prima volta dopo anni dopo quella famosa frase di buffett che disse sì la lotta di classe esiste e l'abbiamo vinta noi l'elite noi l'elite l'abbiamo vinta ecco per la prima volta apparire nel panorama italiano qualcosa di inedito cioè in qualche modo che dei portuali abbiano detto no in questo modo e non solo ma qualcuno ha scritto che delle persone che andano la terza media valgono più civicamente che venti costituzionalisti io sono commosso di fronte a questo fatto sono sconvolto di come la loro forza la loro lucidità e da loro in qualche modo come posso dire amore per la costituzione di essere contro la discriminazione è così potente sai io sono ligure e conosco il porto i portuali di geneva e anche loro hanno questo sono stati sempre in qualche modo in qualche modo è un emblema per noi per io ricordo del 68 in qualche modo un'immagine di forza di opposizione di chiarezza di rispetto a qualche modo delle regole costituzionali per cui cosa posso dirti non solo è un risveglio che accompagna tutti quanti noi ma questa qua è una strada maestra loro sono la vera sorpresa di questo panorama è un come posso dire sì è una frattura in questo panorama finalmente un'opposizione appare e appare nella sua purezza nella sua diciamo così di integrità morale e civile ecco sarà difficile per il mainstream dipingere come pericolosi fascisti o nostalgici delle camicie nere questi dignitosi lavoratori che abbiamo ascoltato anche i nostri microfoni di una grandissima dignità rispetto delle regole preparazione umana e professionale tutti quelli che escono dalle regole dal mainstream dalle narrazioni costruite dal mainstream vengono bastonati a rete unificate Carlo tu per primo hai introdotto l'argomento del grande reset nel nel dibattito pubblico e subito si sono scatenati una serie diciamo di personaggi te lo aspettavi una reazione così violenta del sistema sì è come anzi devo dirti due o tre cose la prima cosa è che meraviglia ad esempio che questa manifestazione dei partuali questa opposizione queste dichiarazioni non abbiano in qualche modo avuto ancora la prima pagina prima di tutto poi parlo di me cioè io addirittura ho dovuto io sapevo benissimo a cosa andavo incontro e sapevo benissimo grazie alla finestra di overton che tu conosci meglio di me che in qualche modo il primo intervento sarebbe stato in qualche modo dichiarato posso dirti così una parola solo un aggettivo così un intervento da malato di mente sì e quindi lo sapevo io ho accettato comunque ugualmente di fare l'intervista al foglio perché ritenevo giusto in qualche modo accennare a tutte queste questioni perché anche spiego anche questa strategia perché il foglio è autorevole per il mainstream per cui di conseguenza è se il foglio è autorevole il foglio per i giornali ma è molto autorevole se lo interrogano vuol dire che in qualche modo lui è autorevole per proprietà transitiva e la pallonbelli mi ha gentilmente invitato e ho contattato con lei di avere esattamente cinque minuti da solo in questi cinque minuti da solo non ho parlato io perché non ho in qualche modo la forza di parlare ma ho fatto parlare dei documenti vedi la cosa che lo dico a te che occorre sempre far parlare i documenti del potere questo è l'insegnamento che do sempre a tutti il potere ormai parla non è più nascosto e anzi è continuamente in primissimo piano declama racconta i suoi progetti vedi draghi e non solo ma ha preso la parola e non si nasconde più e dichiara sentenzia usa l'imperativo categorico lo capite questo cambiamento ma grazie a questi documenti che ho mostrato finalmente ho introdotto dei temi che tu conosci che voi conoscete che noi conosciamo quali sono il grande reset vuol dire che il covid è stato il protesto per che cosa per far sì che inizi in qualche modo un nuovo ordine mondiale che in qualche modo ci sovrasta e pone in modo totale forte il tema dell'elite che ormai è un unico perché l'elite sono in qualche modo qualcosa che è un potere immateriale è il potere che ci sovrasta è il potere che stampa denaro è il potere che guida le banche è il potere in qualche modo che ci vuole solamente sudditi ci vuole solamente greggie e questo qua è l'inizio di una storia purtroppo vedi anche qui ed è molto interessante c'è una resistenza mediatica che tu anche noi conosciamo molto bene che la pratichiamo ogni giorno su facebook quando in qualche modo facebook vuole censurare le nostre parole le nostre indagini le nostre inchieste le nostre in qualche modo notizie che vogliamo avere e ci pone di sempre di ci rinvia sempre la pagina fondamentale quello ufficiale ma noi sappiamo giocare con facebook sostituiamo le parole tabù come vaccino come virus come zuckerberg con tutti quanti sinonimi con altre astuzie ma qui c'è stato il problema ancora più importante quindi oltre alla resistenza mediatica di cui la tua rete è un emblema c'è un fatto che il green pass improvvisamente questa sciopero questa opposizione dei 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 portuali di trieste fa parire alla sinistra diciamo sinistra per favore mainstream una cosa importante che non è più un capriccio di alcuni filosofi virgola alcuni personaggi malati di mente virgola alcuni personaggi qualche modo che vogliono farsi notare virgola alcuni personaggi capricciosi ma è in qualche modo un obrobio che noi che nessun sistema politico nessun regime ha mai fatto per qualche modo per poter vivere avere questa patente verde che qualche cosa vuol dire cosa vuol dire è qua la prima volta ed è un incidente del potere un incidente nel senso che era inaspettato e proprio è va contro quel modo di parlare per in qualche modo per imperativi che usa draghi con tono un po spezzante io devo dire quasi quasi usando un attimo di una battuta come per draghi siamo tutti dei piccoli fantozzi siamo fantozzi e devo dire che i partiti sono dei filini non è che si dà molto di più ecco noi siamo dei fantozzi a proposito di fantozzi qualcuno dice che landini vicino draghi sembrava il mega presidente vicino quel fantozzi che faceva il rivoluzionario comunista è vero che la scena sembra simile vedi vedi l'ho detta apposta perché è vero io e oltretutto lo dico con molta tristezza perché l'andini lo conosco e devo dire che è una persona veramente che anzi io ricordo che con mattei ti ricordo una cosa gli avevamo chiesto di essere il leader dalla sinistra penso un po se tu chiami mattei ugo mattei lo conosce molto bene potrete veramente verificare la notizia quindi penso un attimo ma l'ho trovato veramente imbarazzante la sequenza perché lui era proprio sotto il braccio di draghi c'è non come se avesse bisogno in qualche modo i draghi per difendere la ccl la ccl si difende da sola con la sua storia con la sua diciamo eh capa eccole ma no ma poi ce n'è un'altra ancora più forte di fotografia ce n'è una addirittura quando sono sulla scala se la trovassi sarebbe ideale lo dico alla regia ecco perché draghi è sopra di lui lo sovrasta in qualche modo è sul gradino superiore e tu sai che le immagini parlano fortemente non è caso carlo ti ricorderai che raul castro tolse ad obbama il braccio intorno alla vita bravo 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 applauso eccola qui no ce n'è una ecco ancora un'altra più su ancora ce n'è una ancora peggio cioè lo capite veramente che è una situazione imbarazzante e soprattutto poi c'è anche un'altra cosa che eh di fronte al green pass eh Landini è vero che occorre in qualche modo rilanciare l'economia capisco tutto ma c'è anche il problema prima di tutto i lavoratori ecco i portuali e torno a ripetere perché credo che questo questa mezz'ora che passo con te eccola qui eccola qui l'abbiamo fatta vedi che la regia non sbaglia un colpo eh ma la regia lo so vi conosco quindi ma guarda la regia che ma guarda che immagine ma guarda ma ve la vedete veramente una cosa terrificante regia vuoi provare a trovare pure quella del mega presidente con fantozzi comunista vediamo se è simile quindi lo capite che veramente siamo ecco io sono ho proprio ho voluto parlare con te oggi perché credo che siamo a una svolta oggi 13 ottobre sta avvenendo qualcosa perché poi solamente oggi che è esploso e vedrai che domani anche i giornali mainstream io credo che abbiano in qualche modo in una primissima pagina eccolo qui eccolo qui assomiglia un po' esattamente vedi e arriverà questa bomba questa esplosione è lì da vedere perché poi se tu vedi su una cartina una cartina in qualche modo che riguarda in qualche modo la navigazione dei porti tu vedi che proprio trieste è un punto centrale della globalizzazione dell'economia globale e quindi non solo ma i porti sono fondamentali noi ligoni cioè noi che viviamo sul mare cioè sappiamo quanto siano importante non solo ma la crisi di un porto comporta la crisi di tutta la regione pensa un attimo quindi lo so molto bene questa cosa ma se tu poi vedi trieste trieste e si irradia dappertutto e questo colpo dei portuali è una cosa che inaspettata e che completa tutto quanto e la massima solidarietà e poi a questo punto è chiaro come dicevi tu è un po' difficile pensare che anche loro sono fascisti o figli del fascismo o sono in qualche modo qualcuno che porta al fascismo credo che sia un po' difficile dire questa cosa ecco poi è anche strano come personaggi conosciuti alle procure alle forze dell'ordine siano riusciti a entrare così facilmente dentro la sede nazionale della cgl senza incontrare nessuna resistenza ci sono immagini dove si vede chiaramente insomma che diciamo non si sono impegnati molto per impedirlo però allora qui c'è un problema un problema molto importante che che tu devi sottolineare io ho detto volutamente manifestazioni volutamente filtrate come così va lo diceva così che diceva sempre se vuoi far fallire una manifestazione basta in qualche modo farla infiltrare da agenti provocatori allora ci sono due o tre fatti molto importante due fatti la prima di un signore calvo che prima aggredisce le forze dell'ordine e poi aggredisce pesantemente con dei manifestanti a calcio e pugno chi è questa persona so che è andata e si è autoconvocato in procura e vedremo chi è la seconda cosa se tu guardi le immagini che ha mostrato bio blu vedo delle persone che si stanno cambiando e si stanno cambiando per recitare una nuova commedia la commedia appunto dei linguagri insorti che assalgono e che occupano la cgl vero allora questa chi è che le filma sono liste faccio delle domande in qualche modo che per creare un po di tensione anche sono che che le filma sono gli stessi agenti che si filmano per denunciare la manipolazione un punto interrogativo sono un po figlio troppo della serialità americana che vedo e quindi qualche modo vado oltre a quello che oppure chi sono cioè non capisco perché si lasciano a filmare come mai ecco che cosa rappresenta questo queste immagini dove di persone si travestono ti pongo questa domanda perché qui che occorre fare un'indagine ma perché questa immagine cosa vuol dire chi è che le filma perché si lasciano a filmare cosa vuol dire vuol dire che anche la polizia ormai in qualche modo non sopporta più di essere manipolata oppure ha un'ingenuità per dimostra cosa vuol dire questi qua sono gli interrogativi che ti lascio in questa conversazione così accorata e così veramente grazie che me l'hai fatta fare perché ci tenevo moltissimo ecco grazie a te carlo che davvero un piacere confrontarsi con una persona libera e come te io ritengo che non esistano dei corpi monolitici io credo che anche all'interno del viminale c'è chi magari cammina sul solco di la barbera il lorrido depistatore delle inchieste sulle stragi di capaci di via d'amelio promosso poi prefetto uomo sisde c'è chi invece prova a combattere per ristabilire un minimo di ordine e di pulizia ci sono guarda io credo io ho avuto l'esperienza del g8 fatto un documentario con giusti e torelle sul g8 quando ero ero ai due che poi dato anche a canna quindi io conosco le mani ti ricordi con gli attrezzi che mostrati il giorno dopo dicendo che poi erano tutte quante false eccetera quindi portarono delle molotov finte per la precisione e furono poi condannati con sentenza passato ingiudicato dalla procura di genova ma promossi però dai titolari della sicurezza interna bravissima e quindi io l'ho vissuto in prima persona perché l'abbiamo seguiti come era i due eccetera naturalmente documentario poi non la rai non ce lo lasciò mai programmare bene chiusa parentesi ma la cosa che vorrei dirti un'altra cosa è che c'è una guerra perché la dimostrazione che il vice questore una donna meravigliosa schirillo arriva sul palco e grida in qualche modo dicendo che la legge occorre qualche modo lui a lei ha giurato sulla costituzione e occorre far rispettare la costituzione vuol dire che all'interno delle forze dell'ordine c'è un contratto come dici tu c'è in qualche modo una battaglia ecco perché io non sono poi così pessimista non sono così c'è ecco per un attimo c'è un problema di collegamento non so se è andata via la linea se riusciamo a ripristinarla rapidamente la linea con carlo freccero che ci stava spiegando come anche lui ritiene che il il viminale non sia diciamo un monolite che esistano sensibilità all'interno di chi evidentemente è costretto a a vivere dentro una cornice fatta di compromessi non sempre raccontabili ma poi ci sono uomini e donne in questo caso come il vice questore nunzia alessandra schiliro che invece spiegano chiaramente che la devono fedeltà alle leggi e alla costituzione e non al potere politico che ora contingentemente occupa i palazzi del potere ecco non so se nel frattempo ecco carlo era andata via la linea per un secondo stavo spiegando da diceva appunto quindi c'è in qualche modo un contratto ecco perché non sono così negativo su tutto credo che insomma che c'è sì insomma siamo su un momento molto delicato ecco perché occorre stare attenti ecco perché occorre veramente comportarsi con lucidità e non cadere nelle provocazioni e soprattutto essere solidali cioè noi siamo pochi siamo minoranza ma in qualche modo l'articolo 3 ci garantisce il rispetto della minoranza e non occorre qualche modo bruciare questo rispetto della minoranza che è sancito dalla costituzione con cazzate e scemate grazie mille ecco tu sai carlo come funziona il mainstream provano a scegliersi loro gli interlocutori noi abbiamo fatto piazze piazze piene a piazza san giovanni qualche settimana fa era era gremitissima nessuno ha detto una parola perché la nostra chiaramente una piazza democratica libera dialogante pacata serena sedia con un servizio d'ordine quindi nessuno ha speso una parola su di noi però stranamente repubblica la stampa ogni qual volta vede la camicia nera ecco quando vedono però una camicia nera di forza nuova che poi sono gli stessi che hanno provato a cacciarci dalle piazze con la violenza guarda caso accendono telecamere accendono i riflettori e si chiama coincidenze oppositorum questo metodo cioè da un lato blindano draghi dall'altro scelgono gli oppositori di comodo e sai cosa c'è anche un altro aspetto che te lo voglio su cui ci sto lavorando e che il pubblico anche quello che guarda internet se poi si affaccia alla televisione in qualche modo generalista vede l'opposto e sai cosa succede si crea una dissonanza cognitiva che crea tensione crea in qualche modo disordine mentale forse tu non ci hai mai riflettuto ma io ci rifletto molto perché questo altalena tra la frequentazione di internet e poi la visione di talk di in qualche modo telegiornali che sono completamente opposti crea questa che io chiamo dissonanza cognitiva che è un problema perché a questo punto ti rende in qualche modo paralizzato e non sai più a credere ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio perché so che devi scappare devi andare via tu prima dicevi dobbiamo leggere i documenti dei padroni leggiamo ad esempio un passaggio rapido del libro di claus swab la quarta governare la quarta rivoluzione industriale una di queste edizioni gode della prefazione di john elkan titolare di gran parte dei giornali mainstream italiani questo per dire che poi per chi vuole trovarla le cointeressenze tutto si tocca e tutto si trova dice chiaramente swab che non è proprio l'ultimo arrivato ma il capo del forum di davos che raccoglie i potenti della terra ma questo obiettivamente un dato di fatto scrive dice parafrasando madelaine albright la difficoltà è quella di comprendere e governare le tecnologie del ventunesimo secolo con una mentalità del ventesimo secolo e con il sostegno di istituzioni ferme al diciannovesimo secolo il cambiamento di governance è decisivo per affrontare queste sfide al pari di una mentalità che deve adattarsi alle criticità del nuovo secolo sta dicendo che il cambiamento strutturale pretende un cambiamento sovrastrutturale cosa c'è di complottiste in questo stanno dicendo che le vecchie costituzioni borghesi non servono più però se tu ne parli con concita de gregorio ne parli con parenzo ti guardano come se stessi parlando di una favola cioè sono loro che non capiscono non sono programmati per capire o recitano un ruolo carlo ah no io ormai credo allora prima pensavo che fosse ignoranza perché c'è anche questa cosa ho visto gramellini sul corriere che non sapeva nemmeno a considerare il grande reset è una cosa veramente grave per uno che scrive per il giornale più importante d'italia quando il times ha creato una copertina fondamentale in cui racconta mette in primissimo piano su in copertina cos'è ma poi c'è il problema che tu hai aperto veramente qui apriamo l'ora andiamo ancora due avanti due minuti il digitale allora io non so io non sono contro il progresso ci mancherebbe altro ma accorre il progresso accorre saperlo utilizzare ed ecco perché la democrazia in qualche modo è molto importante loro lo utilizzano in qualche modo come tutto il libro se io lo conosco a memoria quel libro lì l'ho anche adottato in qualche modo per fare un corso è una cosa che pone le basi del controllo pose cioè il digitale è in qualche modo l'apertura in qualche modo verso una società del controllo d'altra parte questa nuova élite ha ha in qualche modo il caosmar di della cina ha capito che la cina attraverso il c2 comunismo più capitalismo può raggiungere qualunque tipo di obiettivo economico per cui vuole in qualche modo sofferire a questa nuova c2 che io chiamo è chiaramente ecco che il digitale diventa un'arma fondamentale la digitizzazione del del pianeta è fondamentale non solo ma vi dico di più ma perché il green pass si angoscia così tanto ma è un motivo molto semplice è l'embrione l'embrione di una tessera digitale è l'embrione della tessera sanitaria che l'homes sta costruendo per tutti quanti noi capiamo questo fatto non siamo in una sceneggiatura siamo nella realtà nella realtà e questo qua il problema per favore non giochiamo a nascondino non mettiamo la testa sotto il tappeto ma vediamo come saranno le cose il libro della rivoluzione della quarta rivoluzione industriale un libro fondamentale che io ritengo da studiare da leggere ti ripresento una cosa poi chiudo che guarda che l'altro libro fondamentale la crisi della democrazia del 75 fatto da con la preparazione di presischi eccetera e tra l'altro carlo quello aveva la preparazione di gianni agnelli esatto e quindi vedi come tutto coincide vedi ma ci sono delle date cioè io credo guarda posso dire una cosa che la io mi sono messo durante la pandemia a studiare come uno studente fuori corso e a fare piazza pulita tavola rasa ho detto beh qui c'è qualcosa di nuovo c'è una pandemia che mi sa qualcosa che mi devo capire cosa indica e mi sono messo a studiare nuovamente e quindi io sono in questo senso veramente un testimone di questo cambiamento e di ciò che comporta nel futuro della nostra civiltà grazie carlo è stato un vero piacere fare questa chiacchierata con te spero ci saranno presto altre occasioni nel frattempo colgo il tuo invito ad essere uniti perché il momento è difficile non cadiamo in provocazioni restiamo lucidi senza avere paura ragionando da persone serie pacate dialoganti non rinunciamo mai esercitare il nostro diritto dovere di pensare criticamente ma senza paure senza isterismi perché alla fine abbiamo a che fare con un gigante dei piedi d'argilla grazie a carlo freccero grazie a voi bene cari amici di visione tv si conclude qui questo nostro importante approfondimento la nostra libertà dipende da voi dipende dalla vostra generosità noi non godiamo di finanziamenti esterni non abbiamo editori viviamo soltanto grazie alle libere donazioni di gente che crede nel nostro lavoro lo vuole sostenere lo vuole rendere sempre più forte e alla portata di affrontare le sfide che ci circondano potete aiutarci con bonifico paypal potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it iscrivetevi al nostro canale telegram se vi va anche sul nostro canale youtube grazie a tutti voi alla prossima grazie a tutti